Qual è il condimento ideale? Allora, noi usiamo principalmente pomodorino fresco e cacio ricotta, però si possono usare anche condimenti diversi come ragù di carne o ragù bianco. Insomma, sono tanti i modi per gustare le orecchiette di grano arso, una delle specialità della cucina d'auna. A Pietra, Monte Corvino, sabato e domenica prossimi, ci saranno loro, le orecchiette, ma anche i troccoli, i cicatelli e tanti altri tipi di pasta. Tutta fresca. Verranno prima preparati e quindi serviti qui, all'interno del Palazzo Ducale, che per l'occasione si trasformerà in una sala di degustazione. È dedicato proprio alla pasta il primo appuntamento di un percorso che con cadenza quasi mensile si snoderà sino a dicembre. Protagoniste a turno le bontà della gastronomia locale. La tipicità non è però vista come un limite, ci sarà spazio, ad esempio, anche per il cioccolato. Ad organizzare l'itinerario l'Accademia di Cucina Castel di Pietra, che così celebra i dieci anni di vita. Si tratta di una scuola per cuochi nata con l'intento di creare una solida professionalità per i giovani del subarpennino. Oggi l'Accademia tiene corsi anche per appassionati, che un lavoro non lo cercano, ma semplicemente amano i fornelli e le ghiottonerie nascoste. Come ad esempio la noglie, tipica di pietra. Si tratta di un salume ricavato dalla pancetta, in questo caso di maiale nero, essiccato e speziato. Sabato e domenica, insieme alla pasta, sui tavoli del palazzo ci sarà anche lei.